Musica Tundì e bentornati alla Clessidra. Ci troviamo nuovamente nella sala di Casatorre che fu già sede del Consiglio Comunale per la seconda puntata dedicate alle elezioni dell'Esecutivo Comunale di Poschiavo. Come già ampiamente risaputo, non solo per l'elezione del Podestà ma anche per quella del Consiglio Comunale sarà battaglia vera. Sono infatti cinque i candidati che si sfideranno per ottenere una delle quattro poltrone disponibili e che si accompagneranno al Podestà nella composizione dell'Esecutivo Comunale. Cinque candidati al Consiglio Comunale che oggi sono nostri ospiti per un dibattito preelettorale e che ovviamente ringraziamo per aver accettato il nostro invito. In stretto ordine alfabetico sono con noi Marco Betti, candidato nuovo dell'Udc Valposchiavo. Benvenuto Marco. Carlo Crameri Costa, pure lui nuovo, candidato del PDC Valposchiavo. Benvenuto Carlo. Grazie. Renato Esepponi, uscente, candidato per Poschiavo Viva. Benvenuto Renato. Manrado Lanfranchi, pure lui uscente, indipendente. Benvenuto Manrado. Grazie. E Orlando Lardi, pure lui indipendente e pure lui uscente. Benvenuto Orlando. Buondì. Prima di entrare nel vivo del dibattito, illustro brevemente le regole. Abbiamo preparato cinque domande che abbiamo preventivamente messo a disposizione di tutti i candidati. Sono dunque previste cinque tornate di risposte per ciascun candidato. Per ciascuna domanda ogni candidato avrà a disposizione un minuto per poter dire la sua. Cominciamo con Marco Betti. Ecco, durante l'ultima legislatura la Giunta Comunale si è dimostrata più volte molto parsimaniosa nella gestione delle finanze comunali. Ciò ha comportato tagli e azioni di risparmio che si sono inevitabilmente riflesse sulle possibilità d'azione del Consiglio Comunale. Coscienti che le elezioni di novembre potrebbero comunque cambiare completamente volto alla Giunta e al suo atteggiamento, nel caso si dovesse continuare sulla via del risparmio, quali sono gli investimenti che il Comune di Poschiavo assolutamente non può più permettersi di procrastinare? Secondo me, prima cosa, non è colpa dell'autorità se si è intrapresa una politica di risparmio, ma sia la situazione finanziaria delle casse comunali che hanno imposto queste decisioni. Pensiamo che nel 2014 le finanze comunali hanno chiuso con un disavanzo di 1,7 milioni, quindi evidentemente i passi da fare erano chiari da intraprendere. Per esempio sono state anche immesse nuove tasse, penso per esempio la tassa sul turismo, quindi si è giocato un po' sul risparmio e sulle nuove tasse e terra tutto dovuto. Per i nuovi investimenti io penso che bisognerà investire in strade, comunicazioni, servizi pubblici. Ok, la parola a Carlo. Determinate situazioni erano date in quanto le finanze comunali non permettevano altro. Ora si può guardare con un altro obiettivo. Ritengo che prioritaria deve essere la lavorazione di determinate linee guida, sia strategiche che operative, e queste ritengono sia importanti già a inizio mandato. definire esattamente quali sono gli elementi a cui dare la priorità. Penso innanzitutto alla scuola, penso al piano studio 21, che comporta un investimento importante ripartito nei prossimi tre anni. Gli impianti sportivi, è in corso il rinnovo del campo sportivo ai Curtin, e da pescatore considero rilevante anche una soluzione per quanto concerne il porto delle barche. Deve esserci una decisione definitiva e relativa allo stabile del CTL, in relazione anche alle necessità di un centro culturale. Deve essere risolta la problematica della fornitura degli inerti. Questo ritengo siano gli elementi più importanti. Diciamo che fondamentale sono il rinnovo degli impianti sportivi ai Curtini, e la gestione degli inerti, la lavorazione e anche deposito di materiale puliti. Per quello che riguarda lo sviluppo, senza un concetto di sviluppo territoriale, diventa anche difficile portare degli altri progetti. Bisognerebbe prima di tutto creare le basi, e una volta che si sono create le basi, allora si può pensare anche a dei progetti. E in un concetto di sviluppo si tiene anche proprio conto di quelli che sono i potenziali di sviluppo di un territorio. Grazie. Menrado? Sì, i progetti sono adesso in corso, il campo sportivo dovrebbe essere realizzato, quello che si protraga da diversi anni, sarebbe un tema di portarlo a termine, però le finanze del Comune di Poschiavo sono illimitate, non possiamo fare tutto perché le entrate sono quelle che sono, non ci sono altre grosse entrate, e dobbiamo contenere i conti pareggiando, praticamente pareggiando le entrate con le uscite. Possiamo fare un deficit se abbiamo un'infrastruttura che porta qualche cosa, ma se no dobbiamo contenere i costi con le entrate che abbiamo. Orlando? Sì, io credo che la Giunta attuale si è divertita, si è impegnata a fare degli importanti tagli, quindi ricordiamo che nei primi due anni sono stati affrontati dai temi decisamente scabrosi, sono stati fatti dai tagli decisamente anche dolorosi, per cui non credo proprio che la nuova Giunta si debacchinare su questi tagli già effettuati. Guardando avanti viceversa, bisogna distinguere fra quelli che sono costi di una gestione ricorrente e invece investimenti. Quindi se parliamo di investimenti, io credo che le strade sono un tema assai importante, sia le strade del Fondovalle che le strade della montagna, quindi qui si trovano a trovare delle soluzioni importanti. E poi l'altra faccenda che non si può più procrastinare è la questione Cortini, quindi questa è una partita che si porta avanti da 30 anni e credo sia arrivato il momento di vincere questa partita e portarla a termine. Per cui altri sono gli investimenti, ma questi sono decisamente importanti. Grazie Orlando. Passiamo dunque alla seconda domanda. Carlo, da alcuni anni a questa parte la pianificazione locale del Comune di Poschiavo è bloccata in attesa che il Gran Consiglio vari il piano direttore cantonale e le relative linee guide. Tale strumento verrà discusso nella sessione autunnale del legislativo cantonale e a breve dunque potrebbe entrare in vigore. E' pertanto evidente che uno dei grandi progetti che dovrà portare avanti il Consiglio Comunale durante la prossima legislatura sarà proprio la realizzazione di una nuova pianificazione locale che, ammettiamolo, è divenuta un'esigenza impellente per il nostro territorio. Secondo voi, quali sono le criticità e le opportunità delle quali bisognerà tenere maggior conto durante la stesura della nuova pianificazione locale? Sì, ritengo innanzitutto che considero la revisione della pianificazione l'elemento prioritario della prossima legislatura. Questo deve essere sviluppato in relazione alla necessità dei vari settori sia artigianali che industriali come pure dell'agricoltura. Sono convinto che il futuro della Val Poschiavo passi proprio attraverso a come saremo capaci di gestire e valorizzare il nostro territorio sia in ottica dei cittadini che ci vivono ma anche in relazione del turismo. Si dovrà elaborare una nuova legge edilizia che tenga contro proprio della valorazione del territorio. Ritengo che il progetto 100% Val Poschiavo sta portando una nuova ottica di sviluppo e pertanto va tenuto in debita considerazione come vanno riconosciute le importanze e le corrette ubicazioni delle zone artigianali e industriali. Grazie. Renato? Secondo me diciamo nelle ultime due legislature si è addormito un po' per quello che riguarda la pianificazione anche un po' ci si è lasciati abbagliare dal progetto Lago Bianco e i criteri che sono stati utilizzati per fare la pianificazione sono serviti a poco. Quello che bisogna fare è ritornare un po' dicevo prima ai potenziali del territorio i potenziali del territorio sono dati se si riesce a creare un concetto di sviluppo territoriale allora si riescono a creare le basi una pianificazione di per sé non è che porta molto perché quella esistente ha già dato certe risposte ci sono delle problematiche che devono essere analizzate e trovate delle soluzioni confacenti però una pianificazione mette ordine sul territorio però se non crea le basi per uno sviluppo serve anche a poco la pianificazione e quello che dicevo cioè bisogna creare veramente questo concetto dove si tengono conto dei potenziali di tutti gli interessi le criticità sono come sempre le solite gli interessi di categoria gli interessi privati i giochi politici e tutti questi elementi mettono sempre diciamo dei limiti a diciamo una valutazione oggettiva di quelli che sono i potenziali sul territorio grazie sì la nuova pianificazione è in corso da diversi anni non si riesce a trovare una soluzione ma adesso si parla che con il nuovo direttore cantonale si potrebbe avanzare questa pianificazione e dobbiamo prendere in mano proprio però per me la gran difficoltà è quei 5.000 metri di zona edificabile che dobbiamo togliere dalla pianificazione e quello sarà un duro colpo per i proprietari del terreno che dobbiamo o indenizzare o vedere come si realizza questo il resto bisogna creare delle zone industriali e una zona artigianale zone artigianali e industriali siccome le geriali presi vanno mancando bisognerebbe cercare delle soluzioni nel territorio del comune di Poschiavo su una zona industriale e artigianale dobbiamo lavorare su macchie di lopardo perché centralizzare tutto in una zona favoriamo quelle delle presi per portarlo alla vici o favoriamo quelle di dobbiamo cercare un compromesso sul territorio per non penalizzare a nord o a sud grazie la pianificazione questa parola tanto antipatica a tutti questa pianificazione diciamo è un po' vittima inizialmente del discorso Lago Bianco quindi ha fatto in modo che i tempi si allungassero di brutto ora è il cantone che si deve esprimere sugli ultimi dettagli per cui non è che siamo con le mani in mano perché a livello di attuale consiglio comunale l'argomento pianificazione è arrivato più volte sul tavolo quindi si è argomentato a più riprese e siamo entrati anche qui in una fase decisamente finale per cui direi siamo pronti se guardiamo la pianificazione che sta per arrivare io credo sia importante valorizzare le due cose che tu hai detto prima quindi quali le criticità e quali i benefici come criticità sicuramente ogni taglio ogni taglio fa male questo è risaputo quindi andare a tagliare una zona edificabile a qualcuno farà estremamente male quei 5.000 metri che diceva il collega Lanfranchi sono dolorosi ma a quanto pare sono anche rimborsabili quindi vediamo un attimino di relativizzare questo dolore parlando invece di opportunità io credo sia il momento ideale di rimodellare tutta la superficie dedicata alle imprese quindi sia quella artigianale che quella industriale deve trovare uno spazio sufficiente per permettere uno sviluppo futuro assai importante per la nostra piccola crescita economica grazie Marco il tema sicuramente è ostico adesso andrò un po' a ripetermi ma ormai essendo l'ultimo così vorrei non vorrei tralasciare un po' i paletti che il cantone emette a tutti i comuni tutto il cantone mi ripeto i 5.000 metri che andranno alla valle del Reno scapito del comune di Poschiavo e di tanti altri comuni non è da sottovalutare probabilmente tanti spazi di manovra su questi paletti messi dal cantone non ci saranno sarà comunque compito delle autorità cercare di pianificare in maniera di sostenere lo sviluppo economico di tutto il comune quelle che saranno imprese imprese turismo agricoltura tutto insieme grazie passiamo quindi alla prossima domanda Renato sappiamo che il territorio di Poschiavo non è propriamente ricco di materie prime premesso che questo non è solo un fattore negativo da considerare è pur vero che comunque disponiamo di alcune materie prime importanti che sono l'acqua e il bosco e se per quanto riguarda l'acqua credo che non vi siano dubbi che la stiamo sfruttando in maniera anche sostenibile laddove sostenibile è molto importante per quanto riguarda il bosco invece ci sono alcune domande in più secondo voi cosa possiamo fare in più per poter valorizzare il bosco ma diciamo non dobbiamo scordare che il bosco da noi è una funzione protettiva se facciamo un paragone un po' con altre regioni a noi vicine una diciamo una conoscenza del territorio delle protezioni e dei sistemi diciamo di prevenzione permettono di non avere diciamo dei danni o dei danni eccessivi quando ci sono delle piene o quando ci sono delle situazioni climatiche particolari e questa è la prima funzione del bosco poi se guardiamo un po' i nostri boschi sono dei boschi dove sono in parte inaccessibili e in parte diciamo il legname che cresce non è legname d'opera cioè non si può utilizzare per dei manufatti come dire pregiati la maggior parte del legno cioè è destinato come dire a creare degli imballaggi oppure è venduto in valtellina per essere bruciato perciò sarebbe anche diciamo importante riuscire a valorizzarlo anche come forza energetica adesso noi abbiamo qui un teleriscaldamento è sempre stato anche un po' criticato per i costi di gestione comunque è un investimento sul territorio che utilizza una materia prima sul territorio io non dico che magari fosse possibile fare anche una valutazione in questo senso di riuscire almeno a sfruttare questo legname di scarto e di riuscirlo diciamo a investirlo sul territorio e farlo o trasformarlo in energia grazie Manrado sì allora l'acqua è un strumento ben sfruttato l'acqua è sfruttata bene abbiamo ancora un potenziale magari per la centralina della Valpernal se viene realizzata però anche lì bisogna sempre stare attenti con i costi e l'investimento con la resa invece parte Bosco una volta il Bosco era una fonte principale per il comune di Poschiavo negli anni 50-60 è sempre andato in calo con la concorrenza dall'estero e è sempre andato diminuendo oggi il Bosco se non sarebbe sostenuto dalla Confederazione e del Cantone non sarebbe più possibile tagliare si dovrebbe mettere soldi però dobbiamo proteggere il Bosco dobbiamo proteggere perché come dice Renato è una zona di protezione per e però si vede aggirando nel Bosco oggi fa male perché c'è molto molte piante molto disordini nel Bosco una volta questo non era più pulito oggi fa male aggirare nel Bosco fa male però è una realtà non riusciamo a contenere i costi per la pulizia del Bosco grazie sì la Valpo Schiavo dispone di una superficie boschiva decisamente importante lo sappiamo tutti negli ultimi anni si è assistito poi a un calo dei prezzi o del valore del legno stesso che tra l'altro nella Valpo Schiavo non parla di un legno pregiato e quindi questo calo dei prezzi ha fatto sì che anche le rese le ricadute a livello comunale sono state inferiori a questo forse ci dobbiamo attuare in attesa di un rilancio dei prezzi in Valpo Schiavo si fanno tra i 10 e i 12 mila metri cubi di tagli di legname tutti gli anni e questi sono indispensabili sono necessari per il ringiovanimento del bosco per mantenerlo in salute eccetera eccetera e questo viene fatto ottimamente bene dal nostro gruppo forestale il bosco il bosco beh innanzitutto va visto come anche comunque una fonte di posti di lavoro perché questi tanti metri cubi si traducono anche in posti di lavoro il bosco va visto come strumento di protezione già stato detto prima protezione per le strade protezione per i paesi e questa è una protezione naturale importante il bosco il bosco va visto come paesaggio 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 vuol dire turismo paesaggio vuol dire sentieri paesaggio vuol dire salute e quindi in Valpo Schiavo siamo molto ricchi di questo per cui se diciamo il bosco è una materia prima importante io dico sì estremamente sì anche se magari oggi fa guadagnare qualcosa in meno rispetto al recente passato grazie Marco grazie ma indubbiamente il bosco è importante molto importante per tutti noi e secondo me come viene gestito di questi tempi è gestito in maniera egregia dato anche il depreciamento del legname di più penso che non si possa fare l'importante è mantenere questo standard di cura del bosco vorrei forse però anche entrare in un altro tema che non abbiamo solo acqua e bosco ma abbiamo anche sassi sabbia e sapete tutti che non si può più estrarre né dalle prese né dal cambrena per il comune era un indotto di 200 mila franchi un incasso di 200 mila franchi all'anno più l'indotto quindi è anche qualcosa che secondo me andrebbe approfondito e tematizzato grazie da parte mia vorrei sottolineare l'importanza che rivestono le nostre acque ritengo di conoscere in modo dettagliato il settore nel quale a mio avviso abbiamo ancora un margine di manovra importante se per il grosso sfruttamento energetico la situazione risulta tutta essere ben definita questo non è ancora per le piccole risorse che sono molto importanti in modo particolare guardando al futuro ritengo sia importante l'elaborare un catalogo delle sorgenti principali che presentano delle ottime caratteristiche definire un concetto di protezione in quanto in futuro anche in un futuro non troppo lontano possono rilevarsi molto interessanti sia per le nostre necessità ma sia anche per la posizione geografica importante del comune di Poschiavo per quanto concerne il bosco mi ripeto è molto importante è molto dipendente dal prezzo dal legname il prezzo di mercato sta scendendo continua a scendere dobbiamo però vedere il bosco soprattutto come elemento importante per la protezione del paesaggio dobbiamo vedere il bosco come elemento di attrazione anche turistica pertanto il bosco va curato e il bosco al bosco deve essere riservata tutta l'attenzione che è necessaria grazie ma in raro in questi anni si è anche però discusso molto di promozione dell'economia nel nostro comune dall'esperienza che abbiamo fatto abbiamo è uscito palesemente che attirare nuove aziende oppure lanciare nuove iniziative non è così semplice d'altro canto però bisogna anche ammettere che la Valposchiavo per nostra fortuna ha un discreto numero di piccole e medie aziende che si stanno dimostrando all'altezza del mercato perlomeno elvetico non sarebbe forse pertanto proficuo poter favorire un po' la crescita di queste piccole aziende invece di attendere che una soluzione ci venga calata dall'esterno secondo voi quali sono le iniziative che si potrebbe mettere in campo in questo senso ma sono dagli anni e tutte le volte che si discute si vorrebbe portare in valle delle piccole imprese o piccole fabbriche ma è difficile a Poschiavo bisogna curare le nostre piccole aziende e guardare che funzionano quelle al massimo visto in giunta lunedì sera che il bilancio del turismo Val Poschiavo cresce ha fatto un avanzo di 57 mila franchi io vorrei guardare nel futuro di diminuire quella tassa che sono penalizzate le imprese di Poschiavo quello bisognerebbe guardare perché adesso il turismo Val Poschiavo in cassa ci hanno 160 mila franchi quello dobbiamo fare attenzione perché più soldi ci hanno in cassa più ne spendono e qui abbiamo una grande esperienza su altri enti che abbiamo avuto in Poschiavo che avevano dei soldi e tutto in un momento sono restati al verde grazie Enrado credo di non aver sentito quello che ha detto il collega Manfranchi quindi mi attengo alla domanda parliamo di economia locale di imprese locali servirebbe una bella bacchetta magica per sanare del tutto e se ci fosse questa bacchetta magica forse l'avrebbero già usate chi ci ha preceduto non è facile trovare delle soluzioni in tal senso io credo che il comune abbastanza le mani legate parlavamo prima di pianificazione una mossa interessante importante potrebbe essere proprio quella di generare degli spazi in favore delle imprese grandi e piccoli che siano nella nostra valle tanto di più il comune non può fare potrebbe arrivare un aiuto in parte già arriva dal cantone che agevola a livello fiscale quelle che sono le aziende locali un altro grosso aiuto potrebbe arrivare viceversa dalla confederazione che potrebbe prendere di petto la situazione che riguarda tutte le aziende a livello nazionale e emanare delle nuove regole per il commercio verso l'estero e per proteggere il mercato svizzero eccetera eccetera ma non entriamo troppo nei dettagli un altro esempio potrebbe essere quello per esempio adottato dai vicini dell'Austria dove lo Stato sostiene determinati settori penso in particolare al turismo dove lo Stato interviene proprio per finanziare la costruzione di nuove strutture ed ecco che l'Austria per esempio dispone di strutture fantastiche questo potrebbe essere un forte aiuto che però serve dall'estero da fuori insomma dall'esterno scusate grazie Orlando Marco sicuramente come abbiamo visto negli ultimi anni non è il Comune a dover fare imprese abbiamo visto che non ha funzionato un tema secondo me da dimenticare il Comune invece deve insistere garantire servizi impeccabili uffici performanti e facilitare il più possibile chi vuole fare imprese chi vuole portare chi vuole portare denaro in valle grazie ma da parte mia ritengo importante sottolineare la qualità della nostra piccola e media impresa abbiamo una piccola e media impresa di ottima qualità e questo è riconosciuto soprattutto da chi viene di fuori valle ecco questa ottima qualità deve essere valorizzata e si devono trovare gli strumenti che possa essere anche concretizzata sul territorio e possa essere riconosciuta a mio modo di vedere il Comune può attivarsi nei grossi lavori sia cantonali che delle aziende più importanti presenti in valle proponendo innanzitutto di tenere in debita considerazione la nostra economia credo che la suddivisione degli appalti in più lotti possa favorire la nostra piccola e media industria spetta però anche alle nostre aziende essere competitivi sul mercato cercando quelle attività che sono le attività di nicchia e sfruttare al meglio quelle che sono le risorse del territorio e della propria manodopera io penso che sul territorio vediamo che hanno effetti positivi quando le iniziative partono dalle nostre risorse se pensiamo adesso a livello turistico il discorso fatto con i prodotti agricoli le lavorazioni di questi prodotti e la vendita in valle ai nostri alberghi e anche fuori valle sono cose che funzionano bene noi abbiamo all'interno della valle diverse potenzialità che non sono assolutamente sfruttate e questo parlo per esempio a livello turistico per quello che sono l'architettura che abbiamo nei nostri borghi il fatto diciamo di riuscire a tirare per esempio durante tutta la stagione i turisti che vanno e vengono col treno da Tirano a San Moritz e questo è il fatto che dicono sempre bisogna avere delle offerte che sono interessanti da poter far fermare la gente qui a Poschiavo e se noi partiamo dal territorio con le nostre risorse riusciamo già da questo punto di vista a incrementare un po' il settore turistico fondamentale per una valle come Poschiavo sono i collegamenti strade ferrovia e reti telematiche queste sono fondamentali dicevo prima un concetto di sviluppo territoriale da una direzione vede sul territorio quali sono i potenziali cerca di dare un ordine cerca diciamo di creare una convergenza di tutti gli interessati e va anche una direzione così si crea anche diciamo anche un futuro iniziative così individuali vanno bene diceva prima a Betty che il comune stesso non può fare molto il comune deve creare le basi deve mettere a disposizione gli strumenti per fare che un'azienda possa venire qui trova i servizi trova un'efficienza trova le vie di comunicazione e tutte queste cose però diciamo non dobbiamo illuderci sono più di 50 anni che raccontano che vengono e si trasferiscono dalle ditte qui solo come dire con una diminuzione dei costi o delle imposte e non è vero bisogna investire sul territorio bisogna creare strutture bisogna avere un orientamento in questo modo se si riesce diciamo avere anche la convergenza da parte di tutte le forze politiche di tutti i gruppi di interesse si riesce anche a creare uno sviluppo in valle anni fa era stato qui uno dei consiglieri dell'energia americani dal presidente Clinton il famoso adesso non mi scappa il nome comunque lui aveva detto che 100% prodotto Valpo Schiavo va bene ma se avessimo anche un 100% di energia rinnovabile in valle sarebbe il marketing più bello che possiamo avere e riusciremo anche in questo modo a tirare più tante persone in valle senza dover fare grandi sforzi grazie Renato passiamo quindi all'ultima domanda Orlando immancabilmente prima di ogni elezione ritorna in auge il solito ritornello che non ci sono più persone disposte ad impegnarsi per il bene pubblico la realtà dei fatti un po' contraddice questo ritornello in quanto nelle ultime elezioni e questa non fa eccezione vi sono stati più candidati che poltrone disponibile non di meno però qualcuno sostiene che ormai il sistema politico comunale andrebbe modificato o perlomeno snellito qualcuno addirittura si spinge oltre e vorrebbe addirittura l'eliminazione della giunta così come è prassi ormai in buona parte dei comuni grigionesi secondo voi il modello politico attuale è ancora sostenibile a medio e lungo termine o andrebbe cambiato e come nel caso ho fatto alcune riflessioni sul tema io credo che la tecnologia va presa in considerazione quindi la tecnologia oggi ha permesso di accorciare le distanze ha permesso di accorciare i tempi e di questo forse anche una struttura come il nostro apparato politico l'agentro comunale ne deve prendere atto quindi oggi è diventato più facile comunicare passare le informazioni forse è il momento di pensare anche a una giunta più snella più più corta nei numeri perché no proviamo a immaginare una giunta di sette elementi o di cinque elementi addirittura non credo che le frazioni sarebbero impoverite perché oggi le informazioni circolano viaggiano il vantaggio di avere una formazione più ridotta sarebbe quella di avere meno problemi di occupazione dei seggi sarebbe quello di poter selezionare meglio magari i candidati e sarebbe quello di avere una giunta più veloce più dinamica nel decidere per cui non guardiamo con preoccupazione a un possibile sviluppo in tal senso grazie Orlando Marco io non lo vedo adesso questa priorità per il comune visto che come detto anche da te la gente si trova ancora disponibile naturalmente come si vede in tutte le associazioni sempre meno è vero arriverà il momento che bisognerà fare qualcosa non 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 sarà distante questo momento abbiamo comunque una nuova costituzione varata nel 2013 quindi vedo un po' adesso un po' troppo presto andare a cambiare la costituzione una variante potrebbe essere quella di diminuire a quel punto le autorità sia consiglio che giunto oppure fare elezioni di giunta non frazionali ma a livello comunale grazie Marco Carlo personalmente ritengo che l'impegnarsi per il bene pubblico sia un fatto personale che richiede innanzitutto tempo impegno e che anche dal lato morale non sia sempre riconosciuto sono infatti parecchie le critiche che vengono rivolte a coloro che svolgono attività pubbliche la nostra società dobbiamo rendersi conto sta diventando una società sempre più individualista in cui è più facile ricercare lo sbaglio degli altri rispetto agli impegni propri credo che la presenza di più forze politiche nel consiglio comunale possa migliorare questa situazione credo anche nel fatto che debba essere snellito l'apparato sia esecutivo che amministrativo resta comunque il fatto che le leggi devono essere fatte rispettare devono valere per tutti i cittadini e questo comporta naturalmente un notevole impegno soprattutto amministrativo l'abolizione della giunta è un tema che può essere affrontato dobbiamo tener conto però delle varie particolarità che abbiamo nel comune di Poschiavo grazie Carlo secondo me le domande non sono quelle giuste perché la democrazia ha delle procedure e ha delle regole noi dobbiamo garantire a tutti i cittadini di potersi esprimere dobbiamo avere delle procedure che siano corrette dobbiamo avere delle autorità che siano riconoscibili e questo è fondamentale non si può come dire snellire la democrazia delegando non so alla tecnologia o delegando a delle singole persone il compito di come dire tutelare gli interessi dei cittadini e questo va fatto solo con un esercizio democratico al massimo si può chiederci cioè possiamo chiederci se ancora diciamo le forze politiche rappresentano gli interessi e come dire le obiezioni della popolazione questa è una domanda diciamo da farsi perché tutte le procedure garantiscono a ogni cittadino di potersi esprimere se questo non esiste più si va verso l'autoritarismo e questa è la cosa peggiore che può succedere perciò bisogna veramente mantenere queste istituzioni c'era Churchill che diceva che la democrazia non era uno strumento perfetto di gestire della cosa pubblica però al momento attualmente è il migliore che abbiamo perciò diciamo secondo me non bisogna illudersi di delegare questo compito a gruppi più ristretti una cosa l'altra maggiormente è rappresentativo maggiormente riesce diciamo anche a cogliere tutti gli aspetti e tutte le rivendicazioni della popolazione a livello comunale quello che si potrebbe fare e secondo me sarebbe importante dovrebbe essere diciamo un unico circondario elettorale anche per i membri della giunta ok grazie mille Renato allora per me che mi fa male lì sempre davanti quando si viene esposti tutti criticano e criticano in modo anche costruttivo negativo ma quando bisogna mettersi a disposizione per una carica così tutti si ritirano specialmente i giovani qui vediamo siamo qui due pensionati uno forse tra i 50 60 anni 50 anni non c'è più un avvenire un buon politico dovrebbe fare una gavetta di giunta salire e poi entrare in consiglio quello sarebbe un buon politico fare una gavetta come per la giunta sì lasciamola come è adesso un momento ok grazie mille con questo abbiamo concluso il nostro giro di domande però in questo senso siete stati abbastanza veloci abbiamo ancora qualche minuto magari lo vogliamo dedicare a un breve molto breve dibattito ho sentito più volte quello che veniva espresso era un concetto di creare un piano direttore se possiamo chiamarlo così su quello che può essere il futuro chiamiamolo un piano di auspicio di quello che dovrebbe essere il comune di Poschiavo ecco in questo senso come dovrebbe essere fra qua quando fra quattro anni finirà questa legislatura come dovrebbe essere migliorato il comune di Poschiavo grazie al vostro grazie al vostro apporto ne approfitto visto che ho il microfono in mano semplicemente per dire questo io sono un convinto che viviamo in un paese bellissimo dove tutto funziona estremamente bene poi si può sempre criticare disfare eccetera eccetera però se però oggi Poschiavo si presenta così come è è perché chi ci ha preceduto negli ultimi decenni ha lavorato bene col massimo impegno io credo che chi è in carica attualmente lo sta facendo chi verrà in carica nei prossimi quattro anni o nei prossimi vent'anni lo farà ancora una volta col massimo impegno e il paese ne trarà beneficio è inutile voi stare qua a fare delle profezie inutili alla base c'è un grande impegno da parte di tutti e un grande attaccamento alle nostre radici e questo è quello che conta io ribadisco quello che ha detto Orlando Lardi e è giusto quello che dice lui diciamo a livello di consiglio comunale essendo esecutivo non è che si possono fare chissà che strategie diciamo un esecutivo esegue chi fa una politica e chi può addettare i paletti per un sviluppo del futuro cioè come dire il Parlamento e la popolazione e questo diciamo è fondamentale ma si inizia ancora molto prima cioè con una buona formazione se noi diamo ai nostri giovani un'ottima formazione saranno anche loro che magari in un futuro avranno anche la possibilità di mettere a disposizione della comunità le risorse da parte mia siamo a fine mandato di una legislatura nel quale ho avuto l'opportunità di essere in giunta nell'ultimo anno ho avuto l'opportunità di essere vicepresidente di giunta e devo dire che riconosciamo l'importanza della gestione del territorio riconosciamo l'importanza di gestire il territorio in modo che la valla di Poschiavo non debba terminare fra quelle tante altre valli alpine anonime dove non hanno saputo valorizzare i punti essenziali e i punti più belli ritengo che noi purtroppo non li sappiamo più valorizzare perché li diamo per scontati ma quando sentiamo altre persone che vengono da fuori valle che ci raccontano com'è bella la nostra valle dobbiamo crederci e dobbiamo essere proprio noi i promotori di mantenere queste bellezze vorrei non vorrei tralasciare di ringraziare il consiglio comunale in carica ho avuto modo di apprezzare quanto si sono impegnati in questa ultima legislatura ritengo che la giunta non si sia espressa troppe volte con dei ringraziamenti verso chi si è impegnato ho cercato di farlo personalmente un paio di volte ma mi auguro che in futuro con la presenza di più forze politiche sia in giunta che in consiglio comunale questa situazione possa migliorare grazie Carlo mi riallaccio a Carlo niente la nostra valle è bella viviamo in un paradiso non c'è altro da dire io spero che questo paradiso venga mantenuto al meglio e anche migliorato per torno un po' parlo ancora strade vie ci sono cose da fare voglio anch'io ringraziare il consiglio uscente un augurio a tutti per le elezioni grazie purtroppo il tempo è tiranno e ci avviamo verso la conclusione ringraziamo i candidati alle elezioni del consiglio comunale per essere stati qui con noi in questo viaggio d'avvicinamento alla scadenza elettorale per il rinnovo dell'esecutivo dal canto mio devo ancora scusare l'assenza di quella che di solito è la mia compagna d'avventura in questa trasmissione l'Ara Boninchi che purtroppo per motivi privati non ha potuto essere presente e rinnovo l'appuntamento con la Clessidra per le elezioni di novembre quando entreranno in campo la giunta il consiglio scolastico e la commissione di gestione grazie per essere stati con noi e a bun sa vede grazie a tutti